Dai! Buona, buona! No! Che cazzo è sfiga! Oh, pami in terra! È calcio d'angolo, comunque! Dai! Non è calcio d'angolo? È uscita prima! Dai, però! Che sfiga, oh! Che miseria, oh! Tira! E va bene! Ah, yeah! Mamma che gol! Mamma mia cazzione, oh! Grande, eh! Dai che c'è lì! Oh, guarda Margie come piotta! Porca miseria! No! Porca miseria! È una rata con me, ovviamente! Ah, beh, quella non a Margie! Porca miseria, oh! Oh, no! Porca miseria! Oh! Che cazzo è questo portiere, è! Ah, ci l'ha messa! No, è our Music. Che scasso è cazzo. Ti li ha dinto! Ce n'ha parata? E va bene! Non cazzo! No, cazzo! Il primo tiro è un po' di Miraglia, vieni tra l'altro, ha fatto un'azione di Miraglia, ora è entrato, Radu si è fatto mangiare roba. Mannaggia, oh. Il primo tiro? C'è una partita, una partita che sta al secondo, beh, guarda, un po' là c'è bravo perché proprio si fa... Eeeh, ciao. Oh, 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 questo è fallo, eh. Dai! Guarda il fallo! Porca paletta questo! Non so... Oppure curioso di aver chiesto che era chi aveva fatto quel fallo, oltretutto, ma questo è un fallo. Forzato, Dio santo! Ma ci manca solo questa. Ci mancava solo questa. Il primo tiro si è un po' domani, un lato del fallo. Che è capace che tu lo faceva? Non ci vedo, non ci vedo. Non ci vedo, non ci vedo. Dai, 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 dai! Che devi fare, immobile! Passa sta panna! No, non fuori gioco continuando, no? Dai! Ci vuole immobile là, no? Lucas Leiva. mamma santa però ragazzi ma chi è? ma chi è? ma chi è? ha fatto due cross e uno peggio dell'altro un punto inutile